appoggio la bobina direttamente sulla stufa e agisco sul potenziometro della sensibilità soglia andiamo verso il minimo e si non suona più quindi effettivamente sembra che faccia la comparazione soglia ok agiamo adesso sull'altro la discriminazione vediamo questo video è sponsorizzato da jlc pcb un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere pcb di ottima qualità in pochi giorni ciao a tutti e benvenuti in laboratorio come sempre prima di iniziare un saluto a tre nuovi sostenitori del programma patreon ciao e grazie a vito mel 6 corde e daniel 72 grazie per il vostro contributo veramente molto apprezzato veniamo al video di questa sera nel video 766 realizzato in collaborazione con davide gatti di survival hacking avevamo analizzato il circuito di un semplice metal detector o meglio di un piccolo gingillo a basso costo che faceva vedere la rilevazione di qualche piccola massa metallica con molte limitazioni ecco che quindi l'amico stefano m di imola spedisce questo inquietante pacco contenente metal detector professionali e anche qualche oggettino che potrebbe essere utile al canale quindi eseguiremo velocemente l'unboxing di questi oggetti e sceglieremo uno di questi metal detector professionali da indagare perché hanno comunque dei guasti e con il pretesto studieremo il principio di lavoro e lo schema elettrico e quindi buona visione nella scatola degli oggetti donati al canale abbiamo questo foto contact tachometer che probabilmente da rimettere in funzione magari lo vedremo in esercizio in qualche video dove può essere utile poi abbiamo un oggetto abbastanza misterioso se volete potete scrivermi nei commenti secondo voi di cosa si tratta questo mi sembra essere fisso connettorino fatto così questo dial to open e si tratta di un gsm remote control system ok poi per gli svalvolati abbiamo un po' di valvole riconosciamo una stella 5 punte quindi questo ci dà un bel indizio se leggo bene abbiamo una 6p6p è una 6n9p direi queste ce le teniamo buone per un progetto valvolare in arrivo e questo direi che era legato ai metal detector come gadget porta chiave veniamo ora al core business di stefano cominciamo con questa scatola che contiene un golden mask finder 6 metal detector professionale qui brevemente le caratteristiche si tratta di un multifrequenza che opera a 5 15 30 kHz molto reattivo accurato a un audio in wireless trasmesso 2.4 giga ha una grande discriminazione vedremo che è un parametro molto importante per questi oggetti e poi è dotato di programmi specifici all'interno della scatola abbiamo quello che non è un volante bensì la bobina di ricerca e poi il metal detector vero e proprio molto leggero compatto qua abbiamo ecco il terminale di controllo le cuffie e tutti gli accessori stiamo parlando di oggetti professionali se siete interessati vi lascio qui sotto in sovraimpressione il link del sito dove troverete tutti i modelli e le informazioni ci spostiamo nella sezione vintage in questa valigia è contenuto infatti un metal detector di un'epoca passata si tratta del coin master 6000 di qui abbiamo le istruzioni in versione semplificata qui siamo in casa white questa è la bobina abbiamo l'asta e il vero e proprio metal detector magari un pochino più pesante rispetto ai modelli attuali con indicatore analogico a lancetta il volume e tutte le impostazioni e da questo altoparlante esce il mitico suono quando siamo in prossimità di metalli sempre dalla collezione di stefano abbiamo questo compass xp 350 scanner metal detector anche questo presenta un'anomalia e guasto troviamo anche questi due modelli questo è il garret con le unità già smontate quindi eventualmente anche questo lo analizzeremo in un altro video sono presenti poi tutti gli accessori tra cui piastre o bobine che poi rappresentano l'elemento che irradia e riceve il campo magnetico per la detection dei metalli sappiamo che la forma la dimensione e anche la realizzazione degli avvolgimenti cambia a seconda del tipo di materiali che vogliamo cercare della profondità dei terreni qua c'è proprio una scienza dietro che vale la pena studiare e veniamo ora a questo modello pirate underwater 8 che come dice la parola è utilizzabile anche fino a 25 30 metri di profondità infatti è tutto stagno questo metal detector ha la particolarità che tutta l'elettronica è contenuta direttamente nelle cuffie e questo risulta essere guasto e sarà il protagonista di questo video l'unità cuffia si compone di due parti questa che contiene l'elettronica del metal detector e la parte alimentazione con batterie a litio qui abbiamo un connettore che si può svitare e utilizzato anche per la ricarica quindi nel caso di ricarica si infila il suo connettore attaccato alla rete elettrica e avviene la ricarica delle batterie abbiamo tre controlli accessibili direttamente in cuffia questo che è l'interruttore e volume questo che regola la sensibilità e quindi la soglia di intervento e infine l'ultimo il parametro discriminazione che nei metal detector permette di identificare appunto la capacità di rilevare certi metalli a certe distanze rispetto ad altri in questo caso specifico se accendo e metto il volume al massimo non succede nulla quindi prima verifica da fare diamo un'occhiata alla tensione di carica delle batterie come prima operazione verifichiamo lo stato di carica di queste batterie usando un multimetro in tensione continua e toccando quei puntali sui terminali di questo connettore stando molto attenti a non toccare perché ricordiamoci che fra positivo e negativo qua abbiamo una batteria litio se vogliamo stare più tranquilli possiamo utilizzare un terminale isolato da ambo i lati piazzarlo su uno dei punti di contatto e utilizzarlo come appoggio per un terminale così avremo la mano libera e con l'altro potremmo andare a toccare uno alla volta gli altri punti fra questo punto e quello in alto abbiamo proprio zero questo ci potrebbe far supporre che sono in cortocircuito vediamo in diagonale qualcosina e qui sotto qualcosa di più possiamo mettere millivolt visto che non abbiamo tensioni esagerate meno 1.1 millivolt qui sotto è una tensione che cala visto che abbiamo un altro pacco batterie nella scatola misuriamo la tensione a vuoto di questa 11.66 quindi possiamo sostituire il pacco batterie con quello originale in realtà prima di procedere alla sostituzione della batteria dobbiamo indagare se per caso l'elettronica non abbia dei guasti tali da assorbire troppa corrente e quindi è piuttosto conveniente utilizzare il caricabatterie scoprendo qual è il pin out di questo connettore quindi andremo a vedere dove è la tensione positiva e negativa sui pin li assegniamo e probabilmente conviene fornire alimentazione all'elettronica utilizzando questo connettore fornendo direttamente tensione qua da un alimentatore da banco infanchiamo i terminali nel connettore come si dice a bologna e vediamo che c'è tensione tra i due poli in diagonale questa è la scalannatura per cui ci andiamo ad appuntare questa disposizione di pin sarebbe bello non aprire ma qua abbiamo quattro fili quindi per essere sicuri del corretto assegnamento dei pin andiamo ad aprire ed in questo caso si tratta di accedere nella parte posteriore togliere la parte qua e accedere a queste viti ad ogni modo è sempre bene documentare quello che abbiamo misurato quindi dall'alimentatore a muro 230 connettorino vista frontale abbiamo rilevato tensione di 1255 fra questo terminale e quest'altro ecco aperta la cuffia ad altissimo grado ip allora abbiamo la batteria i due fili positivo e negativo e vediamo e mi ero effettivamente scordato che questo è anche un altoparlante quindi giustamente ci sono i due fili che portano all'altoparlante questi col connettore vengono mandati in rimando all'unità di metal detector quindi la cuffia sinistra presenta un connettore con pin maschi collegati in questa maniera i due alti sono collegati al positivo della batteria al litio poi abbiamo il negativo della batteria che va su questo pin e anche a un estremo dell'altoparlante l'altro estremo va su questo pin in maniera speculare infiliamo un filo rosso e un filo nero per sostituirci alla batteria quindi daremo alimentazione su questi due fili che porteranno la alimentazione poi all'unità elettronica colleghiamo i coccodrilli di un alimentatore esterno limitiamo in corrente quindi sblocchiamo leggermente il controllo di corrente e saliamo su in tensione accendiamo la cuffia agendo sul potenziometro del volume la portiamo a un livello medio saliamo su in tensione e teniamo le antenne dritte un volt e otto un piccolo assorbimento di corrente si comincia a sentire gracchiare qualcosa 5 volt assorbimento 10mA andiamo su fino a 12 tanto mi sembra che l'assorbimento sia contenuto ok assorbimento 18mA quindi 200mW e l'unità emette qualche rumore agiamo sul potenziometro del volume si aumenta un po ecco ho toccato la testa ovviamente dobbiamo ricordarci che qua abbiamo una bobina eccola qui e quindi la vicino adesso a una parte metallica una bella stufa metallica direi che fa a caso nostro vediamo eh sì quindi qua sente poi eventualmente adesso dobbiamo cambiare i livelli di sensibilità e di discriminazione appoggio la bobina direttamente sulla stufa e agisco sul potenziometro della sensibilità a soglia andiamo verso il minimo eh sì non suona più quindi effettivamente sembra che faccia la comparazione a soglia ok agiamo adesso sull'altro la discriminazione vediamo si ha un'influenza certo che appoggiata così su un oggetto metallico non è molto indicativo agiamo ora sul volume sì spento e acceso considerate che noi sentiamo il rumore che perviene qua dalle cuffie per cui per un operatore è un rumore molto forte eh visto che il pacco batterie originali ha avuto una scarica completa e abbiamo il pacco in sostituzione di sicuro lo andiamo a rimpiazzare poi eventualmente vedremo cosa si può fare su questo accendiamo da batteria andiamo in prossimità di oggetti metallici eccolo qua direi che ci siamo ho montato la bobina l'accessorio siamo pronti per il test in campo accendiamo mettiamo un volume alto perché poi metterò la videocamera per sentire bene il suono soglia di sensibilità la metto a media e così come anche la discriminazione test nel giardino di casa quindi cerchiamo di muoverci così in maniera oscillatoria ecco giustamente qua c'è sicuramente del metallo perché abbiamo i tombini ho fatto i test qua vicino al magazzino e ovviamente sente la parte di canalina dove avevamo messo i fili l'anno scorso per ritrovamenti più interessanti fatti in maniera professionale vi lascio qui in sovraimpressione il link del canale youtube di stefano mettiamo in ricarica il nuovo pacco batterie quindi 230 volt led rosso indice che il pacco è in ricarica quando sarà terminato quindi sarà fatto il controllo tensione diventerà verde ora ci occupiamo della batteria originale ho scritto scarica profonda perché in effetti qua abbiamo 0 volt dal formato direi che è una 18650 potrebbe trattarsi di una ioni di litio probabilmente ma potrebbe essere anche una ni mh adesso verifichiamo in rete se troviamo informazioni su questa batteria su questo sito troviamo il detector pro underwater 8 che è il nostro modello nelle caratteristiche in effetti la batteria è indicata come ioni di litio se fosse stata una batteria di tipo ni mh potevamo supporre la creazione di dendriti quindi cristalli interni alla batteria che la portano poi in corto e quindi provare a sciogliergli nella ioni di litio si può provare effettivamente a forzare un'alta tensione qui più alta di quella nominale tenendo sotto controllo la corrente e tenendo anche in conto il fatto che sono molto pericolose quindi queste potrebbero esplodere o prendere fuoco e quindi è un'operazione assolutamente da non fare oppure come nel mio caso da fare in maniera controllata con tutti i dispositivi di sicurezza e le precauzioni la tensione misurata a vuoto un millivolt quindi possiamo dire che è praticamente zero ho inserito la batteria dentro una vaschetta e chiusa con un bel foglio di plexiglass così se succede qualcosa rimane tutto lì dentro saliamo con la tensione teniamo sotto controllo la corrente un volt e otto due quaranta tre niente nessun assorbimento eh sembra essere aperta sì sì sette volte otto volte niente dieci ecco dieci e novantacinque cominciamo ad avvicinarci forse vedete che c'è un minimo assorbimento eh sì 100mA beh direi che a questo punto potremmo provare questa ricarica in maniera molto tranquilla quindi teniamo una bassa corrente 100-200mA ecco attenzione vedete che poi basta andare poco su e schizza la limitiamo magari ecco qua è andata a zero andiamo un pochino su gliela liberiamo un pochino e attendiamo ho tenuto il pacco batterie per circa un'oretta a una tensione di 12.5 sappiamo che le batterie a litio hanno una tensione nominale di 3.7 con un massimo che è di circa 4.2 abbiamo questo fenomeno di assorbimento impulsivo altalenante però sembrerebbe che eh si sia riattivata da un punto di vista chimico dopo un'ora abbiamo che la tensione raggiunta da questa batteria originale è diventata di 11.88 volt verifichiamo ora con il carico elettronico l'effettiva capacità di questa eh batteria di erogare corrente prima di effettuare un test di misura della capacità della nostra batteria verifichiamo se regge anche una minima corrente ad esempio un 100mA impostato la tensione a vuoto è misurata di 11.86 attacchiamo il carico sì 100mA vedete li regge la tensione sta calando ma comunque ok facciamo il test di misura della capacità per il test della capacità di batteria possiamo supporre una capacità che possa andare dai 2000 ai 3000 mAh e quindi imposteremo una corrente costante di scarica di 500 mAh e una test che si va ad esaurire adesso io ho impostato 4500 mAh ma in realtà vedremo con il tempo come cala la tensione e qual è la capacità accumulata diamo via al test corrente assorbita 500 mAh vedete la tensione piano piano scende andiamo in modalità grafica ecco vedete sono riportati i dati sulla tensione la corrente i watt e gli ohm equivalenti qua possiamo poi personalizzare i vari menu il tempo sta scorrendo abbiamo accumulato 4000 mAh che giustamente è questo tempo per questa corrente teniamo sotto controllo adesso questo test di scarica intanto che il test prosegue ho messo la modalità display dove vediamo la tensione e la curva di scarica qui abbiamo una base tempi di 6 minuti il valore attuale della tensione è di 10.4 e vedete che sta aumentando la scarica velocemente questo significa che stiamo andando in una zona di scarica profonda e non va bene per il litio quindi termineremo il test fra poco anche perché il valore nominale è 3,7 volt per 3 in serie dovrebbe essere 11.1 e qua siamo già a 10.2 come vedete abbiamo accumulato solo 94 mAh di capacità quindi direi che questo pacco batterie è andato immagino che per questo tipo di taglia almeno un 2000 mAh debba garantirli la tensione poi come vedete sta calando con rapidità sempre superiore quindi adesso interromperemo il test appena staccato il carico la tensione giustamente a vuoto è risalita a 10.6 e sta ancora salendo ma questo è un effetto della batteria infatti se lo riattacco subito ok vedete ricala altrettanto in fretta quindi il pacco batterie ha perso le sue caratteristiche di capacità perché sappiamo che poi le batterie a ioni di litio hanno la caratteristica di mantenere una tensione costante anche sotto forti carichi e poi hanno un'ottima caratteristica di autoscarica solo un 5-10% massimo quindi conservano bene la carica però chiaramente conviene sempre fare un po' di ginnastica quindi i cicli di carica-scarica sono sempre consigliati specialmente se rimangono fermi per molto tempo come in questo caso non scordiamoci mai di isolare i terminali perché qua abbiamo veramente tanta energia e possono crearsi anche situazioni di pericolo la riparazione di oggi è stata veramente semplice ci concentriamo sullo schema elettrico visto che nei commenti spesso mi chiedete la lettura di schemi elettrici ce lo abbiamo per questo underwater 8 come tutti gli schemi li leggiamo dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra cominciamo quindi con questo blocco qua in alto questa parte di circuito si occupa della generazione della bassa audio frequenza utilizzata infatti notiamo un quarzo da 76.8 kHz che entra all'interno di un CD4024 che è un contatore allora visto che viene prelevato il pin 5 Q5 abbiamo una divisione per 32 quindi 76.8 kHz diviso 32 abbiamo proprio la 2.4 kHz che è la nostra frequenza questa viene inviata a un LM339 che è un comparatore che ci permette insieme al BJT e questo accoppiamento di trasferire la frequenza da 2.4 kHz all'antenna che irradia che è chiamata qui a schema le alimentazioni sono indicate con più V dopo vedremo la sezione dedicata questo segnale a audio frequenza viene poi anche trasferito tramite questo trasformatore a questi due comparatori perché poi viene utilizzato in seguito per abilitare anche la parte di ricezione questa è la sezione di ricezione e lo capiamo perché abbiamo una bobina L1RCV-EXT che capta il campo elettromagnetico del nostro metal detector di riflesso il trattamento del segnale avviene lungo questa catena riconosciamo degli LM324 quindi comparatori che con dei componenti passivi resistenze e condensatori vanno a condizionare il segnale ricevuto il segnale ricevuto si divide in due catene che portano dei segnali chiamati A e B qua sugli schemi elettrici è importante sempre mettere i riferimenti di rimando per poi recuperare la parte infatti questa parte di elaborazione sarebbe stata troppo lunga e quindi abbiamo questi segnali A e B che troveremo dopo riconosciamo un TLC27M4 che è un operazionale CMOS ad alta precisione basso rumore e vediamo questi segnali A e B dove finiscono A e B ricompaiono qui e come potevamo immaginarci vanno a essere presi da questo LM339 che è un comparatore che tiene conto della parte di controllo della soglia realizzata da questo circuito infatti riconosciamo qua il potenziometro R36 con scritto Trichold e un comparatore che gestisce appunto la soglia e poi prende anche in conto la discriminazione e lo riconosciamo da quest'altro potenziometro R46 disk bias che entra sempre in un LM339 e va a costruire i livelli di soglia e discriminazione per il nostro metal detector da questo comparatore poi abbiamo il controllo del volume audio in uscita infatti abbiamo questo transistor PNP un altro potenziometro per il controllo del volume intensità e anche della accensione spegnimento infatti ha un contatto sull'alimentazione e lo vedremo dopo e da qui poi il segnale viene amplificato per essere portato in cuffia di fatti vedete che con questo Q5 transistor NPN finale si pilota questo trasformatorino al secondario del quale abbiamo questo X2 piezo X quindi abbiamo il segnale in cuffia in questa sezione infine è presente l'alimentazione lo capiamo da questo 9 X B1 quindi batteria 9 volt in realtà abbiamo visto che con la versione moderna è una tensione più alta di poco più di 11.5 volt grazie al pacco batteria e litio abbiamo l'interruttore dato dal potenziometro poi un LP2951 che è un regolatore LDO quindi a bassa caduta dal quale tramite la configurazione di queste resistenze andiamo a creare la nostra tensione V+, che è quella che viene utilizzato in tutto il circuito siccome abbiamo bisogno anche di un'alimentazione metà V mezzi si utilizza questo TLE2426 che è un integrato della Texas che fa proprio le veci del rail splitter quindi data una tensione in ingresso crea una tensione in metà questo molto utile per i circuiti analogici bene e con questo si conclude questo video sul metadetector Underwater 8 della Detector Pro io vi ringrazio per averlo visto come sempre se vi è stato utile o vi è piaciuto un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima e alla prossima e alla prossima e alla prossima e alla prossima